Con le accuse a vario titolo di corruzione, tentata induzione in debita e peculato sono stati arrestati due consiglieri di maggioranza del comune di Foggia, Leonardo Iaccarino, 44 anni e Antonio Capotosto, 61. Nella stessa indagine un imprenditore di 51 anni, Francesco Landini, è stato sottoposto all'obbligo di firma. Dalle indagini condotte dalla polizia di Foggia sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti di entrambi i consiglieri che avrebbero tentato di indurre l'imprenditore foggiano a versare circa 20 mila euro per ottenere l'approvazione di una delibera comunale a favore di una società riconducibile allo stesso imprenditore. Iaccarino, in cambio di denaro, avrebbe favorito l'imprenditore Landini nella liquidazione di una somma di denaro che vantava nei confronti del comune di Foggia per la fornitura di prodotti fitosanitari necessari per l'attività dell'azienda agricola comunale Masseria Giardino. Iaccarino, inoltre, è ritenuto responsabile anche di una serie di peculati, essendosi in più occasioni nell'arco di tre mesi, appropriato di denaro di cui aveva la disponibilità per ragioni del suo ufficio e avrebbe destinato all'acquisto di beni per se stesso. Le indagini proseguiranno anche nei prossimi giorni, intanto Iaccarino è stato portato in carcere mentre Capotosto è ai domiciliari.